Sofì Addoni, cantante nota nella provincia di Perugia, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Monte Santa Maria Tiberina, pochi giorni dopo il suo trentesimo compleanno. La tragedia è avvenuta nella frazione di Marcignano, dove la cantante è morta improvvisamente a causa di un malore. Sofì era celebre nella zona per la sua voce che aveva accompagnato numerosi matrimoni insieme al suo gruppo musicale FGGs. Il 3 giugno aveva festeggiato i suoi trent'anni. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità di Monte Santa Maria Tiberina e città di Castello. Secondo quanto riportato dalla nazione, Sofìa non aveva problemi di salute noti e si era esibita con la sua band solo lo scorso fine settimana. Il comune di città di Castello ha ricordato Sofìa come una promettente e poliedrica artista sempre appassionata del suo lavoro e con il desiderio di portare felicità agli altri. Il sindaco Luca Secondi e l'assessora alla cultura Michela Bottega hanno espresso il loro cordoglio in una nota, sottolineando il grande vuoto lasciato dalla sua perdita. Grazie per la visione! Grazie per la visione!